Questa notte, o mai più, mercoledì 9 ottobre 2013, alle 9.21 di sera, la sonda Juno della NASA, lanciata nell'estate del 2011, passerà un'ultima volta a salutarci con un flyby, un volo radente, ad appena 500 km sulla superficie della Terra. Un ritorno dettato non dalla nostalgia, quello di questa sera, bensì dalla necessità di sfruttare l'effetto di fionda gravitazionale che imprimerà a Juno una spinta pari a circa il 70% di quella subita al momento del lancio, consentendole così di giungere puntuale all'appuntamento con il pianeta Giove nell'estate del 2016. Questa notte o mai più, dicevamo, per salutare e fotografare questo veicolo interplanetario grande come un autobus è pieno fino all'orlo di tecnologia italiana. Se volete cimentarvi nell'impresa, trovate tutte le istruzioni cercando l'iniziativa Aspettando Juno sulle pagine web dell'INAF e dell'ASI. E se la fotografia vi riesce, non dimenticate di inviarla all'indirizzo email info.inaf.it. Le immagini ricevute verranno pubblicate sia in Italia che dalla NASA. Buona osservazione.